Musica Un cordiale ben trovati a tutti da Honor News, il telegiornale delle Marche di UTVRS. Densa oggi la pagina della cronaca. Apriamo con una tragedia nel quartiere Borgo di Fabriano, una donna di 48 anni, da poco separata dal marito ed originaria di San Severino Marche, si è impiccata sul terrazzo della sua abitazione. A fare la scoperta è stata la figlia quando è tornata a casa per pranzo ed ha subito chiamato il 118. A nulla sono serviti i soccorsi, il personale medico ha corso sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Grave incidente stradale intorno alle 10 sulla superstrada Ascoli Mare. Un motociclista di circa 30 anni all'altezza dello svincolo di Monte Prandone ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dalla sella, cadendo pesantemente sull'asfalto. Sul posto l'eliambulanza, che ha provveduto al trasporto del Centauro a Torrette. Il traffico è stato bloccato in direzione di San Benedetto e si sono formate lunghe code. È stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e rinchiuso in carcere. A disposizione dell'autorità giudiziaria, il responsabile di una rapina avvenuta martedì sera presso un esercizio commerciale di fermo. Dopo una breve colluttazione, il malvivente è rientrato nel locale per afferrare una spada ornamentale appesa alla parete che veniva usata per colpire poi l'esercente all'addome. Le manette sono scattate subito dopo in una via adiacente a seguito della segnalazione di due avventori. E torniamo ad occuparci del maltempo. Si cerca ovviamente di reagire ai gravi danni provocati dalla tempesta di 48 ore fa, specie nelle località turistiche, particolarmente colpita la città di Numana dove comunque il 90% delle strutture sono di nuovo funzionanti. Il servizio. Dopo lo spavento, la conta provvisoria di danni ha prevalso, come sempre accade d'altronde, la voglia di rialzarsi. Ore frenetiche, soprattutto sulla riviera del Conero tra gli stabilimenti balneari per cercare di tornare ad offrire quei servizi ai turisti indispensabili per non compromettere il proseguio della stagione estiva. Nel frattempo si valuterà la richiesta dello stato di calamità che appare inevitabile vista la mole ragguardevolissima di gravi situazioni segnalate. In certi frangenti fare gradatore delle zone più colpite potrebbe apparire esercizio poco opportuno. Di certo Numana, con il suo litorale devastato, farà fatica a rialzarsi. Ieri, la visita del presidente della regione Ceriscioli, sentiamo il sindaco della cittadina. Diciamo che stiamo lottando contro il tempo per poter garantire ai tanti turisti che ancora affollano le nostre spiagge una vacanza da sogno. Rialzare vuol dire che si sono messi giù, non sono stati neanche minimamente piegati perché hanno dimostrato una grande forza, una grande energia una grande capacità di reazione, soprattutto il piano di emergenza, ha funzionato benissimo tanto che posso affermare con onore che già da domani quasi tutte le strutture, il 90% delle strutture saranno funzionanti e la vita di questa località turistica riprenderà a pieno ritmo. Giugno è stato molto positivo, molto, non è partito in sordina. Maggio ovviamente il maltempo ci ha danneggiato, non ci voleva questa tromba d'aria ma a Numana, per il grande rispetto che ha dei turisti, si è rimboccata le maniche. Abbiamo lottato, stiamo lottando contro il tempo e vi invitiamo tutti a Numana perché siamo pronti ad accogliere e a farvi provare sempre le più grandi emozioni che si possano avere in campo turistico. Il mondo va avanti, noi siamo pronti a combattere col sorriso e felice di avere tanti turisti nella nostra riviera. È stata dimessa questa mattina ed è tornata a casa la vice sindaco di Tolentino, Silvia Luconi, 35 anni, ricoverata a Torretto dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri mentre si stava recando a San Ginesio ad una riunione della comunità montana. Stando a quanto si è appreso, la donna avrebbe urtato una pianta in un tratto di semicurva ribaltandosi poi con la vettura. Una giovane mamma di origini africane è rimasta schiacciata e ferita gravemente da un pesante cancello scorrevole nel centro abitato di Tavuglia lungo la strada che scende verso San Giovanni in Marignano. La ragazza, poco più che ventenne ma già madre di una bimba di 7 anni, ha subito l'incidente mentre tentava di aprire per entrare nell'abitazione dove risiedeva da poche settimane e è stata trasportata d'urgenza all'ospedale regionale. Stamane, a bordo di un autobus che si stava dirigendo verso la stazione centrale di Ancona, una 74enne italiana senza apparente motivo ha utilizzato lo spray urticante nei confronti di due giovani passeggeri straniere, costrette poi a ricorrere alle cure mediche del 118. La donna è stata denunciata in stato di libertà per i reati di lesione ed interruzione di pubblico servizio. Cambiamo decisamente argomento. Oggi a Fano l'inaugurazione della mostra Leonardo e Vitruvio oltre il cerchio e il quadrato al Palazzo Malatestiano. Sentiamo Sara Santacchi. Fano tiene fede al suo city brand, città di Vitruvio, nel presentare e celebrare il profondo legame tra Leonardo da Vinci e Vitruvio con la mostra Leonardo e Vitruvio oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell'armonia i leggendari disegni del Codice Atlantico a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo e Paolo Clini. Sì, siamo riusciti a portare a Fano cinque disegni di Leonardo dal Codice Atlantico conservati a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana. Sono cinque disegni non solo bellissimi ma anche importanti per raccontare il vero Vitruvio di Leonardo che non è solo l'uomo vitruviano, oltre il cerchio e il quadrato è proprio questo, il titolo della mostra allude alla ricchezza di Vitruvio al di là dell'uomo vitruviano. Leonardo lo legge durante l'intero arco della sua vita, inizia a leggerlo molto giovane a Milano e continua a citarlo l'ultima volta nel periodo romano, quindi quando ormai ha età inoltrata. È un trattato per lui molto importante, non tanto per l'aspetto architettonico ma per l'aspetto delle macchine, quindi in particolare l'ultimo libro, il decimo, dove trova descritte delle macchine antiche, leggendarie e favolose, di dimensioni colossali che lui cerca di ricostruire. Tre di queste macchine sono, gli schizzi per tre di queste macchine sono in mostra, abbiamo poi un bellissimo foglio di studi geometrici, le cosiddette lunule, che è spettacolare, e uno studio invece per il Tiburio del Duomo di Milano, quindi più tradizionale l'architettura. Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l'ideoneità in concreto a produrre un effetto drogante. Così le sezioni unite della Cassazione fissano nelle motivazioni della sentenza emessa nel maggio scorso, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop. Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti dalla cannabis light, anche se l'olio, le infiorescenze e la resina presentano un THC sotto lo 0,6%. La coltivazione della cannabis, secondo i giudici, è consentita senza necessità di autorizzazione, ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencati dalla legge 242 del 2016. possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana, confermando quindi le tesi del questore di Macerata Antonio Pignataro. Prosegue la tradizione di Lunaria Recanati, oggi presentato in comune il cartellone con due spettacoli, tra cui quello dell'8 agosto con Noa Vediamo. Lunaria 2019 dà appuntamento al suo pubblico con un'edizione speciale in programma Recanati nello scenario di Piazza Leopardi il 31 luglio e l'8 agosto prossimi. In scena la compagnia di musicultura con lo spettacolo Viaggiar Cantando, canzoni e canzonette, ed una vera star della musica internazionale, Noa, entrambi gli spettacoli saranno ad ingresso libero. Ideata dall'associazione musicultura, sostenuta dal comune di Recanate con la collaborazione di Amat, Lunaria caratterizza da oltre 20 anni le stati della cittadina leopardiana. La rassegna si è conquistata nel tempo la fiducia del pubblico con scelte artistiche che la distinguono dai consueti circuiti e dai concerti estivi. Dopo dieci anni di serate memorabili condivise con l'amministrazione Fiordomo, l'oggettiva ristrettezza dei tempi di programmazione imposta dalle recenti elezioni poteva effettivamente mettere a rischio l'edizione 2019, che invece ci sarà. Allora, una edizione speciale che condensa in due date il DNA della rassegna di Lunaria. Da un lato un'espressione importante del territorio e dall'altra una grande prospettiva internazionale accomunate nella qualità. Quindi la compagnia di musicultura il 31 luglio con uno spettacolo, viaggiare, cantando, canzoni e canzonette, che racconta la storia della motorizzazione degli ultimi cento anni e i suoi riflessi nella società a suon di canzoni, di contributi filmati e di racconti narrati sul palco. Dall'altra una grande star internazionale, Noa, che arriverà a Reganati l'8 di agosto. E' bello osservare come negli ultimi anni Lunaria si stia sempre più confermando e anche la città di Reganati come un punto da prodo ideale per grandi leggende della musica internazionale. Noa segue gli esempi di John Betts, di Graham Nash, di Solomon Burke e tanti altri. Nei prossimi giorni saranno esposti 25 cartelli lungo tutto il litorale di Pesaro, da Baia Flaminia sotto monte, contro l'abusivismo. Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza e dalle attività economiche del comune, Riccardo Pozzi. Sui cartelli c'è scritto è vietato acquistare prodotti o servizi da venditori non autorizzati. Il commercio dei prodotti contraffatti aumenta l'illegalità e danneggia l'economia. L'obiettivo, afferma l'assessore, è educare gli acquirenti a non comprare dagli abusivi nella logica della sensibilizzazione. Si tratta infatti di attività illegali e di merci contraffatte per le quali non sono state pagate né tasse né IVA. Ed ora ci occupiamo di un evento che ormai da anni caratterizza l'estate del Piceno, mode e motori d'altri tempi, sabato e domenica a Porto San Giorgio e poi a Ripatranzone. Vediamo. Mettete insieme affascinanti abiti d'epoca, splendide autovetture, tutte anteriore al 1970, alcune delle quali davvero da intenditori. Le vie principali di una delle località balneari più rinomate della regione ed aggiungiamoci la visita il giorno successivo ad uno dei centri storici meglio conservati del territorio. Questa è in sintesi mode e motori d'altri tempi che sabato e domenica animerà Porto San Giorgio e Ripatranzone per l'organizzazione del club Auto Moto d'epoca Piceno, meglio conosciuto come Campe. Il programma della due giorni è intensissimo alle 21.30 del sabato la sfilata sulla passerella all'interno del piazzale Bambinopoli con auto abbinate a modelle della stessa epoca ed in sottofondo le più conosciute melodie del passato ed attorno alla mezzanotte il gran finale sul lungomare Gransci con la sfilata delle vetture. Il giorno dopo l'arrivo a Ripatranzone in piazza Donna Bianca de Taro con la visita guidata allo splendido Borgo del Piceno affacciato sul mare e con vista sui Sibillini, bandiera arancione è famoso per ospitare il vicolo più stretto d'Italia per chiudere il tutto in un ristorante di Marina di Campofilone. Turismo con la promozione del territorio, la bellezza di auto prestigiose ed abiti di gran moda hanno sempre contraddistinto quest'evento capace ogni anno di rinnovarsi e proporre delle autentiche perle e per questo davvero da non perdere. Siamo allo sport che apriamo con il basket finalmente uno sponsor per la vittoria Libertas Pesaro che ha annunciato l'accordo per la prossima stagione sportiva con il gruppo Fratelli Beretta attraverso la storica azienda del territorio Carpegna Prosciutto Dopp. Le molte notizie di calcio a mercato l'Ascoli comunica il trasferimento a titolo definitivo di Emanuele Padella al Vicenza, il capitano bianconero saluta il club dopo due stagioni condite da 57 presenze e due gol. Scambio in Serie C tra Fermana e Vissa ai pesaresi va il centrocampista Alex Misini a 30 anni che giocherà dunque con la squadra della sua città. In giallo-blu Stefano Rossoni stesso reparto classe 97 che farà il percorso inverso. In Serie D la Sangiustese firma Marco Passalacqua difensore 22 anni nella scorsa stagione al Monte Giorgio e l'attaccante Filippo Chiusi del 2001 dal Bellaria Igea Marina. E fanno scalpore gli addidi Trudo dalla Iesine di Mastronunzio e Lori che si separano dall'Anconitana. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per venerdì 12 luglio. Pressione che torna nuovamente a diminuire su alcune delle nostre regioni settentrionali mentre sul resto d'Italia le condizioni si manterranno pressoché invariate. Raggiungiamo ora al centro atmosfera stabile sulle nostre regioni dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque prevalentemente sereno su Sardegna e Lazio. Concludiamo come di consueto dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 12 gradi e non supereranno i 23 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 31 gradi al nord, fino a 32 al centro e punte di 34 gradi sulle regioni meridionali. Un paio di notizie di basket mercato. La poderosa Montegranaro annuncia l'ingaggio con la formula del prestito dalla vittoria Libertas Pesaro di Michele Serpilli, alla di due metri anconetano classe 1999 che nell'ultima stagione ha militato nelle fila dei Legnano Knights serie A2 Girone Ovest. In serie B l'Aurora Iesi ha ufficializzato l'accordo per la prossima stagione con Riccardo Casagrande. Il giocatore classe 1988 senigalliese come Fabio Giampieri arriva in casacca arancio blu dopo una buona stagione con la Luciana Mosconi Ancona, conclusa con 13,7 punti ed oltre 6 rimbalzi a partita nel roster di Cocevalli occuperà il ruolo di Alagrande. Bene, con questo è tutto. Vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi do appuntamento a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.